benvenuti su clodiomasci.com in questo video voglio parlarvi di un nuovo tentativo di truffa in realtà non tanto nuovo perché gira da un po' ma a me è arrivato oggi questo messaggio diciamo che nel mio caso è abbastanza facile capire che non può essere rivolto a me quindi è abbastanza facile intuire la truffa ma molto spesso diciamo soprattutto genitori magari un po' più anziani possono cascarci e la truffa è quella di inviare un messaggio in cui c'è scritto mamma il mio cellulare è rotto questo è il mio nuovo numero salvalo e mandami un messaggio su whatsapp quindi generalmente la persona tende a salvare il numero su whatsapp a contattare pensando che effettivamente possa essere il figlio o la figlia e poi questa persona riceve comunque una richiesta di soldi quindi spesso magari con la scusa di essere bloccati chissà dove viene chiesto di inviare dei soldi a una carta prepagata o qualcosa quindi generalmente si parte dall'invio di questo messaggio quindi si fa salvare questo numero e da whatsapp si chiedono dei soldi quindi fate attenzione soprattutto avvisate genitori parenti persone un po' più anziane che se dovessero ricevere un messaggio di questo tipo non salvare questo numero non contattare questo numero ma nel dubbio contattarvi sul vostro numero che conoscono che hanno già salvato in questo modo potranno scoprire facilmente che è tutto finto per evitare problemi con youtube ovviamente i numeri sono censurati ma sul mio sito web trovate i numeri reali quindi potete andare sul mio sito quindi andate in descrizione quindi non troverete le linee nere che nascondono i numeri quindi se in descrizione andate sul link articolo troverete i due numeri che tra l'altro sono diversi quindi cioè si riceve il messaggio da un numero e poi viene chiesto di inviare un messaggio ad un altro numero quindi sono credo entrambi i numeri comunque dei truffatori quindi appartengono entrambi allo stesso gruppo quindi potete andare sul mio sito web vedere questi due numeri e magari già bloccarli o farli bloccare alle persone che conoscete in questo modo già è una protezione in più ovviamente non serve a molto perché ci mettono poco a cambiare numero però intanto già avere due dei numeri che utilizzano può essere utile quindi vi ripeto se andate in descrizione link articolo sul mio sito troverete la stessa immagine non censurata per questo video è tutto se il video ti è piaciuto metti like in questo modo mi aiuti a capire quali sono i contenuti che vi interessano maggiormente inoltre se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e attiva la campanella così non perderai tutti i miei prossimi video ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine come sempre per qualsiasi dubbio, domanda o suggerimento puoi scrivermi nei commenti e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao